Nel 2024 con 24 comuni uniti in rete. Sono i numeri di una crescita rapidissima a mettere l'ennesima bolla di certificazione a quella che nel 2017 fu un'intuizione quanto mai vincente, quella degli itinerari della bellezza ideati da Concommercio Marche Nord. Itinerari che partirono sei anni fa con cinque comuni e che anno dopo anno sono cresciuti di adesioni, riunendo ora quasi metà delle amministrazioni della provincia in uno strumento di promozione territoriale rivelatosi estremamente efficace. 24 esponenti comunali che ieri sera si sono ritrovati al Charlie Urban Hotel di Pesaro per l'annuale convention dedicata agli itinerari della bellezza, focalizzata sui risultati conseguiti nel 2023 e sulle importanti prospettive per l'anno che verrà. 24 comuni perché sono aumentati nel frattempo e con l'inserimento di Acqualagna, Borgo Pace, Carpegna e Macerata Feltria di raccontare quello che faremo nel 2024, un anno segnato in tutta la provincia, la Pesaro, capitale italiana della cultura, ma che per noi vuol dire una nuova edizione dell'itinerario della bellezza, ampliato ovviamente, riveduta e corretta anche la guida precedente, una presentazione che faremo in Olanda a Utrecht a gennaio, prima della consueta presentazione a Milano alla BIT. Poi faremo un nuovo itinerario che è quello dedicato al mare, il mare che è l'offerta turistica prevalente in termini di presenze turistiche nella nostra provincia, ma di cui non c'è traccia, non c'è materiale. Faremo l'itinerario della gastronomia, quindi il viaggio enogastronomico lungo l'itinerario della bellezza. Una nuova edizione dell'itinerario del silenzio e della fede, perché con l'inserimento di altri comuni ovviamente siamo costretti a fare questo. Noi riteniamo che questo sia un percorso importante, sia un percorso di crescita, come Camere di Commercio crediamo che questi siano i progetti che possono far rinascere il territorio e soprattutto dare un'economia certa al nostro futuro. Le marche non sono ancora riconoscibili in maniera turistica molto forte, ma questi sono i progetti che faranno in modo che la nostra realtà economica venga riconosciuta. La regione ritiene gli itinerari della bellezza una vera e propria guida turistica della provincia di Pesaro Urbino. Dobbiamo fare uno sforzo in più e ho sentito che nelle corde di Comfcommercio, di Comfcommercio Marche Nord, ma ho sentito una collaborazione anche con Comfcommercio Marche Centrale e con Comfcommercio Marche per allargare questi itinerari, per ampliare sempre di più questa guida che diventi un'altra delle guide importanti per la visita della nostra regione. Abbiamo visto che anche in quest'anno il turismo è aumentato, è aumentato anche di visitatori non soltanto italiani ma anche stranieri e questi sono strumenti fondamentali anche per destagionalizzare il turismo. Non solo valorizzazione dei territori, ma anche tutela e promozione dei loro prodotti. Un prodotto che si chiamerà Valore Bellezza, è un modo per incentrare i consumi dei cittadini e anche dei turisti nei negozi, nei ristoranti, nelle botteghe artigiane dei comuni che fanno parte dell'itinerario della bellezza, senza comprare nei centri commerciali, senza dare i soldi negli Stati Uniti a Amazon o in Cina a Alibaba, ma di consumare, creare un borsellino, un credito con una card che appunto sarà Valore Bellezza che potrà essere utilizzata solo nei negozi convenzionati, nei comuni che fanno parte dell'itinerario.